Quello di domenica 5 maggio rischia di suonare come il gong dell'esperienza in Serie D per due squadre pugliesi tra Gallipoli, Barletta e Bitonto, invischiate nella lotta per non retrocedere e costrette a far risultato per garantirsi un posto nella griglia play-out del girone H, icone di stagioni vissute in costante apnea che vedono nell'ultimo turno di regular season il momento del dentro o fuori. Se per Gallipoli e Bitonto l'una tornata in Serie D con l'obiettivo dichiarato di salvarsi anche attraverso gli spareggi e l'altra animata da un'estate difficile con tanto di rischio iscrizione e corso a lungo, questo percorso era preventivabile. La sorpresa in negativo è rappresentata dal Barletta, club che aveva avviato la stagione tra proclami di podio e che adesso, dopo un'annata sportivamente drammatica, rischia di scendere in eccellenza dopo soli due anni a causa di una serie di marchiani errori connessi al progetto tecnico e societario. Per le analisi però ci sarà tempo in vista degli ultimi 90 minuti di regular season e lecito armarsi di calcolatrice. Il quadro di partenza è questo, Gallipoli quart'ultimo a 32 punti, Barletta e Bitonto a 30, con i bianco-rossi in vantaggio sui nero-verdi negli scontri diretti. Chi ha il maggior numero di combinazioni per giocare i play-out è il Bitonto, impegnato a Casarano. Li gioca se vince e arriva a quindicesimo in solitaria, sperando nel K.O. del Gallipoli e mancata vittoria del Barletta. Si arriva a pari punti con il Gallipoli e in caso di approdo a tre, a quota 33. Il Barletta, per giocare il play-out, invece è costretto a vincere sul campo dell'Angri contro un avversario al momento quinto-ultimo a quota 36 e sperare che il Gallipoli, messo meglio negli scontri diretti, perda a Martina e che il Bitonto non vinca a Casarano. Il Gallipoli è invece certo di giocare gli spareggi salvezza se mantiene il quindicesimo posto attuale, vincendone certo ma può anche perdere al Tursi, sperando che il Bitonto e il Barletta non vincano o può pareggiare a patto che non vinca il Bitonto, avanti negli scontri diretti. Un risico di incastri che fanno da preludio a una domenica a Trilling. A complicare la situazione di Bitonto e Barletta nello specifico poi è il Fasano, oggi sest'ultimo e a piotto sul terz'ultimo posto, margine che da regolamento non farebbe giocare lo spareggio tra tredicesima e sedicesima. Battendo la Paganese al curlo, il gruppo di Costantini sarebbe salvo. Lo stesso si può dire per Gravina e Manfredonia, ora a Braccetto a quota 40 e avversarie domenica prossima al vicino. Un pareggio garantirebbe entrambe la permanenza nella categoria scherzi del calcio in una domenica con un sottotitolo in bella evidenza, si salvi chi può.